Abbiamo perso un anno, abbiamo pagato dei soldi per un servizio non dato. E Carmelo Ferrara, consigliere comunale di minoranza al comune di Maratea con il gruppo Insieme per Maratea, che non usa mezzi termini nel commentare la mancata attivazione, nei tempi previsti, del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio lucano. La critica di Ferrara prende le mosse dall'avviso pubblico inerente alla prossima fase di avvio del nuovo sistema di raccolta, a firmarlo il sindaco di Maratea, Mario Di Trani. A breve ha scritto in un documento pubblico il primo cittadino, su tutto il territorio prenderà avvio la raccolta differenziata. Un servizio importantissimo, la cui buona riuscita è fondamentale per il rafforzamento dell'immagine della nostra città. Tempi di attivazione che, secondo il consigliere Ferrara, non sono però quelli giusti. Io ho messo che sembrava una barzelletta, perché l'ho messo per iscritto nell'ultimo consiglio, se effettivamente parte. Secondo me partirà a giugno. Questo però sarà un problema, perché ci voleva un momento di rodaggio che forse era meglio che si facesse a settembre. Quindi noi vogliamo che parta bene per far risparmiare dei soldi. Al comune, il comune di conseguenza possa far risparmiare dei soldi ai cittadini. Tenga conto che quest'anno Maratea ha fatto un aumento di tariffa, che va dai 20 centesimi a metro quadro sulla tariffa per la civile abitazione, ad arrivare pure su alcune attività a 2,10 euro a metro quadro, che non è poco. Dunque critiche che piovono sull'esecutivo di Trani e non solo. C'è un'azienda che ha fatto una regolare gara di appalto, che ha vinto. C'era un capitolato. Dal capitolato, così come ho messo per iscritto, non una sola volta, e quindi agli atti ci sono tutta una serie di documentazioni, questa ditta, secondo me, si e no fa il 40% di quello che il capitolato dice. Io vorrei capire per quale motivo non si applicano le sanzioni, così come pure il capitolato lo dice, e questo l'ho messo pure per iscritto. Quindi l'augurio mio è che effettivamente, visti i manifesti, si parte a giugno.